Nello stomaco c'è una cosa verde, quindi noi la ingoiamo si chiama volo, che piano pianino è una cosa verde, che scende fino alla pancia. Poi nel sangue ci sono i glovori rossi, le piastrine, i sali, i zuccheri. E poi c'è persino il fegato, uguale al sangue però un po' più che si carica l'ossigeno. Poi c'è un liquido bianco dove combattere i batteri della salute, perché altrimenti infettano le cellule. Ci sono le salmonelle che loro producono un'infezione quando si mangia troppo. Bisogna sempre lavarsi i denti. Ci sono dei batteri sulle gengive. Un saluto!